La Nissa comunica di avere affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alessio Sferrazza. Una decisione maturata dopo due partite corrispondenti ad altrettante vittorie, nel corso delle quali il tecnico nisseno ha saputo recuperare ad una situazione che si era fatta estremamente difficile. Nella decisione hanno avuto un peso decisivo la preparazione e la competenza di Sferrazza. Oltre alla novità tecnica è stato nominato direttore generale Vincenzo Cancelleri, che ha raggiunto telefonicamente ha dichiarato di essere felice per questo nuovo ruolo, dove si impegnerà con tutte le sue competenze per il bene della squadra e cercherà di lavorare ad un futuro solido, mettendo le basi con l'aiuto e l'appoggio dell'imprenditore Luca Giovannone e spera che presto si potrà tornare a giocare al Marco Tomaselli. Per il ruolo di direttore tecnico è stato confermato Antonio Emma. La società dichiara che le scelte effettuate potranno consentire di proseguire il percorso di crescita del suo talizio nisseno. Sono felicissimo dell'incarico ricevuto e ringrazio la società per la fiducia accordatami. Spero di ripagare al meglio con lo spirito, la voglia e la determinazione che mi ha sempre contraddistinto. Venivamo da un periodo abbastanza negativo, fortunatamente abbiamo fatto dei risultati importanti che ci hanno permesso di risollevarci un po' in classifica. Adesso iniziano le partite più difficili e le partite più dure. Partire da domenica contro l'Enna, una squadra che non ha mai perso, oltretutto sono andato a visionarla domenica Enna-Mazzara e mi hanno impressionato. Però come ho detto ai ragazzi, noi giocheremo tutte le gare per vingere o provarle a vingere. Poi se l'avversario è più forte stringeremo la mano e faremo i complimenti.